A voi tutti ben ritrovati su Meteo, Giuliaci un saluto a Giuseppe De Vittis, ancora perturbazioni a ripetizione, il tempo peggiore dove lo ritroveremo domenica sulle regioni centro-settentrionali. Al nord piogge sparse con nevicate sull'arco alpino mediamente oltre i 7-900 metri, attenzione però sul Cunese, nevicate sino a quote molto basse, ma al tempo anche sulla Liguria, sulla Toscana con rovesci di pioggia e temporali. rovesci di pioggia e temporali che investiranno nella seconda parte della giornata anche la Toscana, Lazio sin verso la Campania, sconfinamenti anche sul Molise. Sul resto del sud Italia invece nuvolosità irregolare ma non sono previsti i fenomeni, quindi tempo più tranquillo sulle regioni meridionali. Io per ora ho concluso, cari amici, nonostante il tempo piuttosto brutto al centro e al nord, io vi auguro di trascorrere una buona giornata. Arrivederci.